Musica Potente appara ragazzi, qua Axel, oggi oh my god, oggi sono da sole e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video Che ragazzi è il settimo episodio della serie Axel's Road to Glory Per iniziare però vi volevo ricordare di passare da FIFA come stai, siete interessati a comprare chi di FIFA E vi volevo dire un paio di cose, perché infatti il ratio vittorie e pareggi sconfitte non è più 19-1-1 ma bensì è 22-1 Perché? Perché cos'è successo? Io avevo fatto il live streaming, poi un paio di giorni dopo avevo cercato di registrare il nuovo episodio di Axel's Road to Glory E tipo una settimana dopo ho detto, ma io l'avevo fatto, l'avevo già registrato un altro episodio dato che non me ne ricordavo E avevo visto questi clip, gli ho detto ma no, questi sono le clip del live streaming e le ho cancellate Quindi cos'è successo? Mi sono perso due partite, quindi eccoci qua con 20 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta Poi vi spiego un attimo il motivo di quei crediti, perché ragazzi vi avevo detto che appunto a breve avrei upgradeato, se possiamo dire così, dei giocatori In questo episodio sarà un unico giocatore, infatti sto parlando di Alan che lo porterò ad appunto la sua versione second in form Che è appunto quella valutata 74 ma adesso introdurrò anche una regola in questa serie Praticamente ogni partita che vincerò con 4 o più gol di scarto avrò la possibilità di upgradeare un giocatore Se sto parlando in un modo abbastanza strano è perché mi sono svegliato da poco e il video posso farlo ora, ora Quindi ho deciso di farlo ora Adesso andiamo a prendere Alan e poi vi volevo dire che questa serie o la inizierò a fare molto più frequentemente Oppure la farò spesso in live streaming, questo perché? Perché voglio cercare di arrivarci alla divisione 1 prima che scafi fa 15, non manca moltissimo Ma è un tipo due settimane Quindi ragazzi questo qua è il nuovo giocatore, adesso vi farò vedere la squadra e andremo a disputare la prima partita Ed ecco qua la squadra, è quella che gli ho portato anche nel Best Chip Squad Builder Oppure Best Hybrid, Best Chip Hybrid Adesso non mi ricordo neanche il nome, comunque questa qua è la squadra Ecco qua Alan Second in form, pagato 175.000 crediti Mi hanno detto che è una bestia, quindi andiamo a provarlo Primo sfidante di oggi, andiamo a vedergli la squadra Andiamo a vedergli la squadra, signori incredibile King Pins 4-5-1 della Bardays Premier League E non ho visto il portiere Comunque ci dobbiamo impegnare perché non possiamo perdere Subito colpo di testa per Lazaro Lazaro, Lazaro vede Wijnaldum Oh mio Dio, oh mio Dio, subito Wijnaldum Subito Wijnaldum No, ha sbagliato, mannaggia E, e, calcio di rigore Cipri mi ha già il rigore al terzo minuto Skill Ronald Ciopp di Kampl, se non è E calcio di rigore Lo andrà a tirare Alan Vediamo E c'è, no No Dai No, c'è il portiere che è Gesù in sta partita L'ho già capito Ho già capito No, è suonato pure il citofono Parte male No, ragazzi Dobbiamo subito già impegnarci Wijnaldum, subito per Kampl Kampl Che ci riporta subito in pareggio Mi ha zittito Ha guardato tutti i replay Ma adesso ha subito già i gol 1-1 Tio Wolcott Che schifoso Cane infame La mette dove c'è Lazaro Madonna Calcio champagne di Lazaro Bella Dai Depay Dai Memphis 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 No, perché No, no È una di quelle partite L'ho capito Bella Bravo Bravissimo Palla per Depay 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 No, no Dovevo farlo alla cagna Dai Lazaro Lazaro La mette Col Madonna beata No No, no L'ha pure sbagliato No, l'ha data 1 a quello sbagliato Prima l'ha data quello sbagliato E poi è pure sbagliato a porta vuota Ragazzi non ho parole No, no, no No, finalmente No, finalmente mamma mia L'avevo ancora sbagliato 2 a 2 Dai Dai Bella vai Andiamo a farlo E andiamo a farlo Palla in mezzo Dove c'è Alan Che di testa ci arriva e fa gol 3 a 2 All'ottantesimo Ottantunesimo Buono Depay E ne fanno un altro Si sta dilagando 4 a 2 All'ottantatresimo 5 5 a 2 All'ottantaseiesimo Mamma mia Adesso arriva una gol Mi hanno fatto preoccupare Per 67.000 minuti E adesso fanno gol No È finita Quindi non avrò nessun innesto Però C'è un'altra partita Ovviamente Che abbiamo a disposizione Quindi Ah no Adesso voglio vedere le statistiche E stavo rischiando di perdere Con queste statistiche Ma che bello che è FIFA Via Andiamo a vedere Il secondo sfidante Di oggi Scusate Ma è roteso Veramente Non volevo perdere Una partita simile Comunque Ligan E alla squadra È il primo rincontro Che ha la squadra Che appunto Riflette il nome Della squadra Tipo a volte c'è gente Che mette Liga E usa la Barclays Vabbè Comunque 4-3-3 Berbatov In attacco E Spieghiamo di vincere Ovviamente Però adesso la prende a noi Con Lazaro Wijnaldum Palla per il Memphis 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 E c'è il gol 1-0 Il diciottesimo Depay Buono Nooo 1-1 Che palle Bella sta palla Lazaro 2-1 2-1 Ragazzi Dico solo Che è un bronzo Potete già capire Ma che bronzo 2-1 Grazie Grazie Lazaro E c'è gol 3-1 Incredibile Grazie 4-1 4-1 Questo mi sta facendo Dei regali Abissali Nooo Avevo fatto uscire Il portiere Ma dopo mi bastava Un gol Per fare un upgrade Ora devo farne Altri due Nooo Signore Gesù Oddio 4-3 Mi recupera Palla per Depay Depay Che si è fatto anche male Depay Madonna 5-3 E chiudiamo la partita Vediamo il terzo Ed ultimo sfidante Di questo episodio Che Per ora Diciamo che Non è andato malissimo Però io Eia Il portiere pure questo Cercherò di vincere Con 4 più gol di scarto Perché voglio Ovviamente L'upgrade Mette in mezzo Dove c'è E c'è il gol 1-0 Al quindicesimo Non è da di chi Abbia segnato Comunque va bene Ci portiamo in vantaggio Vediamo se Alan Sbaglierà anche questo E c'è il gol 1-0 Bravo Lazaro 3-0 Al quarantatresimo Dai che lo facciamo Sto upgrade Dai E c'è il gol 4-0 Teniamo il risultato E c'è il 5-0 E ragazzi Partita finita Ho vinto 5-1 Quindi Qui si che possiamo Fare l'upgrade E adesso Entrate in gioco Voi Perché infatti Siete voi Che dovete consigliarmi Che giocatore Upgrade Oppure un nuovo giocatore Anche abbastanza forte Da prendere Io pensavo O di passare O meglio O di provare Jonathan Soriano Team of the season Al posto di Alan Secondif Oppure di prendere Depay O i men of the match Oppure team of the season Però ora voglio appunto Questi vostri consigli Fatemi sapere voi Che giocatore vorreste Che io upgrade Oppure che giocatore Vorreste che io prendessi E quindi Detto questo Ricordate di lasciare Un bel mi piace Io vi dico Potenta Pala Ci sento Un prossimo video Bolla